Quanto mi odi e hai ragione, ma se ti può consolare io mi odio anche di più. Ho esaurito tutte le mie capacità di odiarli dopo che ho saputo di quella lì. Sei straordinaria, come puoi essere amica dell'amante di tuo marito? Sì, l'avevamo sempre sognato. Ignorala, sta ancora cercando di superare lo shock, lei è molto turbata. Ma tu hai un profumo adorabile, che cos'è? Beh, credo sia sudore.